Cambiasso rischia, attenzione alla ripartenza del Panatinecos con Sissé, può puntare Cordoba, attenzione all'effetto di Sissé, c'è Largonini, Sissé va da solo, una gran botta, un gran gol di Vibril Sissé. Rigenerato dalla cura greca, tutto da solo, tutto bene. Ha perso palla Cambiasso e questa è una notizia, ha puntato Cordoba, palla sul destro, gran botta, ancora una volta di Vibril Sissé. Ha tirato fortissimo, attaccante numero 9 del Panatinecos, l'Inter adesso deve recuperare due gol.